Allora io presento brevemente la nostra ricerca. Noi abbiamo lavorato al piano per l'accessibilità del complesso monumentale di Santa Maria del Fiore. Il piano per l'accessibilità è uno strumento di programmazione per interventi di adeguamento finalizzati ad elevare il grado di accessibilità di edifici o di luoghi esistenti. Ed è una metodologia che è stata messa a punto dal nostro Dipartimento di Architettura nel periodo 2010-2012 grazie proprio ad un finanziamento della Regione Toscana. Ed è un'evoluzione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che è uno strumento obbligatorio dal 1986. Tutti gli edifici pubblici dovrebbero dotarsi di questo piano. Purtroppo, come sappiamo, non è così. E, diciamo, a differenza del PEBA, il piano per l'accessibilità non è finalizzato solo, diciamo, all'eliminazione delle barriere architettoniche contemplate dalla normativa, ma tende a realizzare luoghi più accoglienti, più inclusivi, diciamo, atti a promuovere la libertà e, diciamo così, a rendere possibile la realizzazione dei progetti di vita di ogni persona. Insomma, quindi la prospettiva è molto, molto diversa. D'altra parte, bisogna pensare che il PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ha le proprie radici negli anni Ottanta del secolo scorso. Quindi il concetto di accessibilità è cambiato moltissimo nel corso di questi anni. Pensiamo solamente all'impatto delle nuove tecnologie, al fatto che prima, quando si pensava alla disabilità, si pensava alla persona mutulesa su sedia a ruota, invece adesso c'è uno spettro, diciamo così, più realistico, no? Quindi si includono le persone con problemi di vista, con problemi di udito, con problemi cognitivi, eccetera, eccetera. Il progetto che presenterà brevemente l'architetto Vessella è un progetto veramente pioneristico, perché applica la metodologia del piano per l'accessibilità, che è previsto per, diciamo, i centri urbani, per gli edifici pubblici, diciamo, in generale, ad un bene culturale di straordinaria importanza, al complesso monumentale dell'Opera di Santa Maria del Fiore, uno dei complessi monumentali più importanti e visitati e conosciuti al mondo, e che ha somma tutta una serie di qualità, come sapete, sono aspetti storici, culturali, architettonici, ma anche identitari, no? Il vero e proprio simbolo di Firenze e della Toscana, Leon Battista Alberti, nell'edificatoria, scriverà che la cupola del Brunelleschi era così ampia da coprire tutti i popoli della Toscana, no? Quindi, per noi è stato un grandissimo onore cimentarci su, diciamo, questo tema, no? Applicare la nostra metodologia ad un bene così prezioso. E quando si interviene, diciamo, per elevare l'accessibilità, il grado di accessibilità di edifici storici, l'obiettivo non è quello di, diciamo, realizzare la, o, diciamo, conseguire la conformità normativa, perché questo è praticamente, nel 99% dei casi, impossibile. L'obiettivo è quello di coniugare, da una parte, diciamo, il grande tema della conservazione, con il tema della fruibilità, quindi l'accesso ai luoghi e ai contenuti culturali. E si tratta, diciamo, da una parte e dall'altra, conservazione e fruibilità, di due, diciamo, diritti che sono, in qualche modo, tutelati dalla nostra Costituzione, no? E noi abbiamo cercato, adesso l'Archietto di Sella cercherà brevemente di spiegare come, diciamo, proprio di tendere ad un equilibrio, no? Tra questi due aspetti. Concludo ringraziando la Regione Toscana, perché ci ha permesso di approfondire un tema, nuovo e molto interessante. Credo che sia stato conseguito l'obiettivo di formare un giovane ricercatore, perché adesso l'Archietto di Sella, adesso è tratto il ricercatore del nostro Dipartimento di Architettura, quindi ha fatto un passo in avanti nella sua carriera, è davvero un ricercatore molto qualificato, molto promettente, credo uno dei più bravi a livello nazionale oggi, no? Su queste tematiche. Vorrei ringraziare anche l'opera di Santa Maria del Fiore, che ha cofinanziato la nostra ricerca, e a seguito del nostro lavoro, poi c'è stato un ulteriore finanziamento, che ci sta permettendo di implementare il Piano per l'Accessibilità. E stiamo lavorando, sì, una cosa che è molto, molto ambiziosa e bella, alla realizzazione della rampa di accesso assagrato della Basilica. Se ci riusciremo sarà veramente una cosa meravigliosa. Noi stiamo lavorando tantissimo e speriamo di farcene. Grazie. Grazie, buongiorno. Ringrazio il professore per avermi appunto, insomma, per i complimenti, anche per avermi, diciamo, aperto la strada a questo argomento. Allora, io brevemente, ovviamente cercherò di tratteggiare i punti salienti di questo lavoro che abbiamo fatto. Qui vedete, come dire, tre principi guida che hanno poi condotto, che ci hanno guidato appunto durante tutta la ricerca, e uno, ha già detto il professore, è questa ricerca di equilibrio tra le esigenze di conservazione di un bene come appunto il complesso monumentale dell'Opera Sant'Opera del Fiore e le esigenze di fruizione, di accessibilità che appunto mantenere un edificio vivo richiede oggi poter fare, svolgere attività all'interno, accogliere persone, accogliere tutte le persone con tutte le loro particolarità e le loro specifiche esigenze. L'altro aspetto importante, l'altro principio è quello di noi siamo architetti, quindi generalmente andiamo a modificare l'ambiente costruito, però il piano per l'accessibilità ha proprio questo approccio, cioè tende a individuare prima degli interventi che noi chiamiamo gestionali, cioè che non modificano le strutture fisiche dei luoghi, ma rivedono l'organizzazione e la distribuzione delle attività per renderle magari accessibili senza appunto realizzare opere e quando questi interventi non sono possibili o sono più indicati quegli architettonici, interventi che vanno a modificare la struttura fisica degli edifici. Come ha detto il professore, dovendoci confrontare con un patrimonio così delicato e così pregiato come quello dell'Opera Antonea del Fiore, gli interventi architettonici sono molto limitati perché si rischia di perdere una materia storica appunto irrecuperabile. L'ultimo principio è quello della multiscalarità e della multidimensionalità, questo nel nostro caso specifico perché abbiamo avuto a che fare come appunto si può un po' evincere da questa planimetria con luoghi molto diversi, con luoghi e spazi molto diversi, sia luoghi pregiati, sacri come la cattedrale e il campanile, il battistero, o luoghi molto pregiati ma con carattere e tipologie diversi come il museo dell'Opera del Duomo oppure l'antica canonica o l'archivio storico. Quindi insomma abbiamo cercato di adottare una strategia che potesse, è anche una metodologia, che potesse adattarsi ai differenti contesti. Questa mappa rappresenta il quadro di unione, un po' in un certo senso la mappa guida di tutta la ricerca perché in esse sono rappresentati gli edifici in verde che abbiamo studiato in maniera più approfondita, cioè quelli aperti a pubblico e in rosso quelli sempre al servizio dell'Opera del Duomo che però abbiamo rimandato a una successiva analisi perché appunto io ero da solo e le condizioni della pandemia hanno imposto determinati limiti, eccetera eccetera. Qui appunto quindi è un quadro di unione e noi abbiamo scelto in accordo col professore con l'unità di ricerca FAL di cui appunto il professore fondatore e coordinatore e gli altri componenti del gruppo di lavoro di occuparci anche dello spazio pubblico che però non è diciamo di proprietà dell'Opera del Duomo ma è di proprietà del Comune. Questo perché riteniamo che l'accessibilità si può migliorare, tendere a migliorare la città di un edificio ma se questo edificio rimane isolato in uno spazio urbano scarsamente accessibile questi interventi rimangono parziali e poco efficaci e quindi ci saremmo dovuti occupare di tutta la città però ovviamente non abbiamo potuto, abbiamo limitato lo sguardo le piazze, piazza del Duomo e piazza di San Giovanni cercando quantomeno di compensare ecco questo tipo di necessità cioè di occuparsi dello spazio urbano. Allora gli obiettivi del piano e il perché diciamo di redigere il piano è questo, cioè da un lato l'obiettivo del piano è quello come ha detto il professore di aumentare, di migliorare l'esperienza di visita per tutte le persone sia da un punto di vista della fruibilità e dell'accessità degli spazi ma anche da un punto di vista della comprensione dei contenuti culturali cioè di che cosa si vede quando si va lì nel museo, nella piazza e dentro gli edifici. E quindi questo è stato diciamo affrontato nel progetto di definizione di cinque interventi strategici che ora non illustro ma che servono come dire a migliorare dal nostro punto di vista appunto la gestione dei flussi dei visitatori a offrire un'esperienza di visita più facile senza troppe perché comunque il complesso monumentale è uno spazio articolato e molto variegato e appunto cercare di gestire meglio i flussi visitatori anche per ridurre quelli che sono per esempio i tempi di attesa che sono una delle barriere architettoniche anche non è una barriere architettonica però ovviamente costituisce un elemento che limita la fruizione di alcuni spazi per determinate categorie di persone. L'altro motivo importante del piano per l'accessività che poi riprende appunto dal PEBA è quello di costruire uno stato di fatto dell'accessività dei luoghi quindi fare un rilievo preciso analitico di quelli che sono gli spazi luoghi oggetto dell'analisi e non solo identificare le barriere architettoniche quindi cioè diciamo gli elementi presenti che dovremmo superare o se si può abbattere ma anche identificare quelli che noi chiamiamo indicatori di qualità cioè andare a segnalare quali sono i servizi assenti che non ci sono e quindi per questo motivo non rendono non fanno sì che quel luogo non sia come dire non abbia un grado di accessibilità elevato un esempio se in un luogo manca un servizio igienico diciamo per i disabili o comunque per chiunque quel luogo diventa inaccessibile quindi non si tratta di eliminare una barriera ma di integrare un servizio e quindi diciamo nel complesso del Duomo ne abbiamo identificati circa 400 di questi tra barriere e indicatori di qualità alcune delle quali possono essere risolte o attenuate sicuramente l'opera del Duomo è caratterizzata da elementi come dire specifici come la salita sulla cupola la salita sul campanile che non possono che rappresentano delle vere e proprie barriere non solo per chi si muove su sedi a ruote ma per molte persone ovviamente il nostro intento non è certo quello di andare a come dire eliminare o come dire abbattere queste barriere ma quanto semmai rende innanzitutto consapevoli i visitatori cioè far sì che loro possano informarsi ancora prima di arrivare a Firenze e quindi di fare la visita e soprattutto di trovare delle modalità alternative di fruizione che oggi diciamo in tanti luoghi già sono svolte come per esempio la realtà aumentata o diciamo ricostruzioni tridimensionali che possono essere come dire fruite facilmente da tutti i visitatori non da chi ha non dalle persone con disabilità questa fase di analisi di rilievo serve e propedeutica poi alla definizione di quelli che sono gli interventi e che qui il piano di accessibilità si differenzia o comunque si come dire è qui che rappresenta l'innovazione rispetto al PEVA perché il piano di accessibilità proprio individua degli interventi li descrive in maniera sintetica e offre la possibilità al gestore quindi in questo caso l'opera del Duomo di avere un documento di programmazione che potrà usare negli anni per mettere diciamo via via progressivamente in cantieri i diversi interventi che noi abbiamo come dire sistematizzato l'ultimo appunto motivo del del piano di accessibilità è quello di poter programmare questi interventi quindi di poter dare una sistematicità e di poter come dire decidere come investire le risorse disponibili nell'arco di una programmazione annuale viennale o triennale a seconda appunto delle esigenze dei motivi della del modo di lavoro dell'ente specifico in questo caso dell'opera del Duomo qui vedete la struttura del piano ovviamente non entro nei dettagli dei documenti il piano è costituito da questi undici documenti alcuni di natura metodologica e altri di natura più operativa diciamo molto importante dal nostro punto di vista è l'aspetto metodologico del piano che non è uno strumento che una volta che viene definito è concluso e definito in se stesso ma è come questo simbolo diciamo questo grafico che richiama il simbolo infinito tende a suggerire è un processo che diciamo ricorsivo che una volta che è stato avviato e è giunto alla conclusione del primo ciclo deve essere avviato per poter come dire aggiornare implementare e continuare questo processo di analisi e di miglioramento diciamo in maniera come dire continua nel tempo e soprattutto attraverso una visione strategica ecco quindi i documenti di natura metodologica servono perché oggi ci siamo occupati noi un giorno l'anno prossimo fra due anni e cinque anni ci potrà essere qualche altra professionista o ricercatore che si occupa di questo lavoro e quindi grazie a questi documenti noi auspichiamo e lui possa poi continuare il nostro lavoro capendo come noi abbiamo costruito tutto il nostro apparato di documenti di dati e di informazioni una cosa uno dei prodotti diciamo di questa ricerca sono le schede di analisi degli spazi e degli edifici a cielo aperto diciamo come ho detto circa 400 sono le barriere degli indicatori qui vedete un po' diciamo delle statistiche cioè più o meno quali sono i luoghi dove si presentano più barriere di tutti in questo caso per esempio lo spazio pubblico rappresenta il grande contenitore di barriere che quindi poi limita la fruibilità e l'accessità di tutte queste altre persone che hanno appunto non ho specificato però noi non ci rivolgiamo solo a considerare solo le persone che hanno problemi di mobilità ma le disabilità diciamo che oggi sono considerate nel ventaglio e nella enorme sfaccettatura che queste hanno ma anche persone che possono avere disabilità temporanee oppure gli anziani oppure i bambini oppure persone lavoratori che sono soggetti a trasportare come dire oggetti pesanti quindi il pubblico interessato da questa quindi non è solo una piccola porzione della popolazione ma noi tendiamo ovviamente a considerare il più ampio spettro possibile le schede diciamo questa è una sintesi di una cartografia dove sono riportate le barriere architettoniche che noi abbiamo come dire rilevato le abbiamo rilevate partendo dalla normativa quindi la normativa nazionale dalla normativa regionale dalle riviste scientifiche di settore e dalla manualistica che oggi è appunto a disposizione quindi si trovano sicuramente quelle che sono le prescrizioni per legge ma anche altri elementi che noi abbiamo che riteniamo essere necessari per migliare l'accessibilità che però ancora magari non sono stati normali ogni etichetta corrisponde a una barriera ora ovviamente qui non è leggibile ma ciascun codice richiama in maniera univoca quella barriera e quindi si può rintracciare nelle varie planimetrie qui è lo spazio pubblico qui ho riportato la cattedrale ovviamente queste etichette che vedete hanno colori rossi e rose diversi e un codice alfanumerico corrispondono a determinate caratteristiche ora però non mi soffermo perché appunto non sarebbe molto interessante però questo tipo di lavoro è stato fatto per tutti gli edifici verdi diciamo avete visto nella planimetria iniziale quindi tutti gli edifici aperti al pubblico per tutti i livelli fruibili dal personale e dalle persone diciamo dai visitatori ciascuna etichetta poi è come dire descritta in queste schede descrittive appunto dove sono riportati alcuni dati generali una descrizione testuale e delle immagini e l'obiettivo l'idea era anche oltre a avere un quadro diciamo come dire una fotografia dello stato attuale delle cose poter mettere a disposizione queste informazioni ai visitatori cioè quelle che noi chiamiamo informazioni off-site infatti abbiamo iniziato a riversare tutti questi contenuti su un sito che l'associazione Prisma che era coinvolta nel progetto aveva messo a punto per noi però appunto ancora il lavoro è in itinere e deve essere sviluppato comunque il risultato diciamo sono queste schede che dovranno poi essere semplificate per essere aperte al leggiamo come dire rese più facilmente fruibili al pubblico di non esperti l'ultimo vero proprio cuore del lavoro è il documento di programmazione che sono appunto questi interventi che noi abbiamo sinteticamente descritto in queste schede a cui è associato un valore di impatto e di urgenza quindi per capire che ordine dare a questi interventi e i codici quindi le etichette che abbiamo visto prima sono associate a ciascun intervento perché l'intervento attenua o risolve quella barriera il lavoro è abbastanza articolato noi abbiamo descritto in maniera sintetica come vedete qui molto breve 100 interventi alcuni gestionali alcuni architettonici che poi sono stati come dire sistematizzati in questi elenchi di priorità che poi sono stati dati all'opera del Duomo concordati insieme all'opera del Duomo e da questi elenchi loro potranno decidere nei prossimi anni di come dire dove concentrare le risorse perché avranno come dire un criterio per distribuire e decidere quali fare prima e quali fare dopo come diceva il professore uno degli interventi che l'opera ha deciso di mettere in atto è stato quello di realizzare una rampa per il sagrato della cattedrale perché il sagrato oggi non è raggiungibile da persone che si muovono sui da ruote o anche persone che hanno problemi di mobilità e anche se stiamo diciamo molto ardito diciamo pensare a una rampa in uno degli edifici forse più antichi di Firenze perché appunto 1296 la fondazione ci sono esempi in Italia il Duomo di Milano il Duomo di Grosseto recentemente ha fatto una rampa modificando in maniera importante il sagrato noi stiamo sviluppando il progetto ovviamente il nostro intento non è realizzare una rampa che consenta di arrivare sul sagrato e basta ma di realizzare un elemento un progetto di architettura che possa coniugare la conservazione l'immagine urbana con il fatto di vivere un'esperienza spaziale che è quella di percorrere la chiesa dalla facciata verso appunto perché oggi si entra nella cattedrale dal lato dalla porta di canone alla porta laterale questo garantisce comunque l'accesso alle persone però come sappiamo in un certo senso discrimina perché le persone devono essere separate e soprattutto non consente di vivere quell'esperienza che è tipica dello spazio diciamo della chiesa cioè di percorrere in maniera come dire lineare quindi questo è il nostro lavoro i suggerimenti per la progettazione è un documento che contiene non delle linee guida ma appunto delle indicazioni che potranno essere fornite ai progettisti che verranno chiamati o intendere l'opera della Santa Maria del Fiore per poter come dire invece di muoversi solo su quelli che sono gli elementi normativi o magari più noti cercare di guardare gli esempi sia in Italia che all'estero con le dovute cautele e anche come dire offrire un approccio un metodo per affrontare i singoli problemi architettonici che poi i progettisti con la loro sensibilità dovranno poi risolvere nella maniera che ritranno migliore l'ultimo queste sono le coperze che costituiscono appunto il piano il proprio piano e questa è l'immagine diciamo concludo in questi 15 minuti l'immagine un po' quindi simbolica che anche guarda un pochino al futuro cioè rappresentato questo funambolo che va dalla croce della cupola alla croce del battistero perché appunto la città è un po' questo cioè deve cercare questo equilibrio tra conservare questo patrimonio e tramandarlo a chi verrà dopo però anche far sì che chi oggi diciamo esiste possa viverlo fruirlo e noi dobbiamo sentire la responsabilità di non come dire andare a sminuire o come dire perdere quel valore che in questi secoli abbiamo si è accumulato in questo luogo grazie